Allora, sono qui sempre con un altro disegno, però questo disegno insomma diventa poco accettabile, non c'è l'unione delle razze con l'anello esterno, per carità lui è stato bravo, mi ha fatto l'ingombimento anche se fosse un po' troppo piccolo, così via, ma non ha concluso, forse era meglio non farlo e unire, adesso andiamo a vedere, lui è stato giusto, ho fatto corretto, 16, 19 e poi su questo andiamo a vedere, 14, 30 e dunque 38, no? 19, 38, sì, vabbè qui andiamo a mostrarlo, ok, però oggettivamente non ha finito, caspita, qui sempre il solito, sempre con questa idea di andare a tagliare in piano e dopo andare a fare dopo la rivoluzione, sì, qua per fortuna che ha fatto questo qua con 100, dato in tre gradi, ok, questa qui poi come l'ha fatta, l'ha fatta in rivoluzione, però almeno l'ha fatta giusta, tre, oddio, oh Santa Polente, no, 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 l'ancora, no, l'ancora, no, 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 cioè ormai è un po' di anni che disegna con me, questo è il secondo, però l'ancora, no, caspita, l'ancora, l'ancora è da, non lo so, è come una cosa aliena, non bisogna, cioè, soprattutto su questo disegno, non bisogna, oddio, mi viene lì, mi viene il crepo a cuore, no, 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 cioè qua, qua già solo con l'ancora uno dovrebbe dare un voto zero, perché già solo con l'ancora, c'è una bestemmia, è una bestemmia l'ancora, che ansia fischia, è come, non lo so, vabbè, 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 qua R5, R5, vabbè, lui aveva scelto questa qui, vabbè, queste dopo sono scelte sue, non c'erano nel disegno, vabbè, qui ha fatto quello lì, poi è andato a fare quello sopra, per carità, questo l'ha fatto, però non può venire con, poi da avere sempre il solito problema delle razze, qui l'aveva fatto giusto come avevo fatto io, però questo disegno era diverso, il disegno qui, era questo qua, era il disegno della maturità, ma io ho dato un altro disegno dove l'ellisse partiva da qui e dal diametro di testa, che poi è anche molto più semplice andare a metterlo nella messa in tavola, non è che siamo dei robot e dobbiamo fare quello che avevo detto io, cioè c'è il disegno e uno lo legge, vabbè, però, ok, poi qua svuota, dove l'ha fatto lo svuoto? Cos'ha fatto lo svuoto? Solo questo? Dunque, se io vado a sezionare, ok, cioè questo qua, questo rimane, vabbè, sposta faccia, ok, anche qui poi questo si vede che è troppo piccolo, un po' di ripetizione circolare, comunque alla fine non è che è un bel, un gran bel lavoro, ecco, ripeto, piuttosto dell'ingobbimento è meglio andare a fare come hanno fatto altri, butto via il tempo sull'ingobbimento e lo metto sull'alto in modo da andare a creare tutto in un'unica parte che poi andrò a raccordare, però, caspita, mi mancano proprio le tosta faccia, cioè è un disegno incompleto. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti